e a un certo punto è arrivata una nuvola, non si vedeva più bene e quindi praticamente quando noi arriviamo e usciamo dalla fotocellula il nostro traguardo è una linea rossa dipinta sulla neve lì il rosso l'avevamo fatto la mattina quindi era penetrato nella neve, neve primaverile e quando io ho passato la cellula non ho visto l'uscita, non ho visto il rosso quindi dicevo cavolo quando arriva la cellula non riuscivo più a stare chiuso a un certo punto vedo una linea verde che era 200 metri dopo la rossa e ho capito cosa era successo lì mi sono alzato però c'era un dossetto, ho preso aria e ho preso una bella... cioè sei decollato come un missile a terra aria sono decollato, sì sì, ho preso... perché poi in più quella gara lì ho avuto un problema, ho preso totalmente il casco se avessi picchiato la testa dove ho picchiato il braccio non sarei qua a fare l'intervista con te ho vinto il mondiale a Verbier però non ho festeggiato perché la sera ero in sala operatoria